Ora è ufficiale. Dopo oltre un anno di chiusura, anche nelle Marche, dal lunedì 11 ottobre, riapriranno le discoteche. Lo ha ratificato ieri sera il Consiglio dei Ministri, ampliando il precedente parere del Comitato Tecnico Scientifico, che in settimana aveva paventato la riapertura al 35% per i locali da ballo al chiuso e al 50% per quelli all'aperto, non soddisfacendo le richieste di gestori, sindacati e associazioni di categoria. Ora invece viene ufficializzata la riapertura al 50% al chiuso e al 75% all'aperto, un balzo in avanti per il quale esprime soddisfazione il Silbecof Commercio di Pesaro Urbino da mesi alle prese con un'azione di dialogo con le istituzioni che ora produce questa apertura. 50% di capienza dei locali al chiuso, nei quali però va garantita la presenza di impianti d'aerazione senza ricircolo dell'area. Le sanzioni prevedono la chiusura del locale alla seconda violazione dagli obblighi di Green Pass o dei limiti di capienza. Oltre all'obbligo di Green Pass ci sarà anche l'obbligo di mascherina al chiuso, eccezione fatta per il momento del ballo. Riaprono le discoteche ma si ampliano anche le capienze di stadi e palasport così come diventa al 100% la capacità d'accoglienza di cinema e teatri. Questo quanto previsto dalle disposizioni sempre in vigore dal lunedì 11 ottobre previste dal Consiglio dei Ministri. Sono dunque destinati ad avere compagnia più numerosa sugli spalti i tifosi di Vispesaro, WL, Italservice o Megavox Vallefoglia che dal turno di campionato successivo a quello previsto in questo weekend potranno godere del 75% di capienza per gli stadi così come per ogni evento sportivo all'aperto e del 60% negli impianti al chiuso. Il tutto sempre con obbligo di Green Pass. Salto in avanti pressoché totale per i luoghi della cultura da lunedì cinema, teatri, concerti o eventi al chiuso nei musei potranno godere del 100% della loro capienza. Si tratta della prima deroga in assoluto all'obbligo del metro di distanza fra spettatori. Aperture che si intendono valide solo se la regione si mantiene in zona bianca. In giallo invece capienza al 50% per luoghi della cultura e stadi, al 35% per lo sport al chiuso.